Andiamo a giocare ovviamente una gara contro una squadra indubbiamente forte, quindi sicuramente sarà una partita che ci impegnerà al massimo, è logico che dovremo cercare di continuare sulla nostra strada a quelli che sono i nostri miglioramenti e cercare di riuscire ad arginare il loro potenziale che è di altissimo livello e cercare di controbattere colpo su colpo, è logico che dobbiamo fare una partita al 110 per cento perché sono una squadra omogenea e equilibrata, organizzata, con ovviamente dell'individualità e quindi dovremmo dare il meglio di noi per cercare di portare via un risultato positivo da un campo anche importante, quindi anche questo è un esame in più che dobbiamo cercare di superare. Può essere un ulteriore esame, un ulteriore crescita per noi, è una squadra che ha delle individualità notevoli, davanti, in mezzo al campo e quindi è logico che sono calciatori che all'interno poi dell'organizzazione che hanno possono sempre trovarti la giocata, metterti in difficoltà e quindi più aumenta la qualità singola dei calciatori più è logico che l'attenzione deve essere massimale, per fare risultato bisogna fare una grande prestazione. Grazie.